Comincia la stagione azzurra, la lunga stagione azzurra, ci racconti un po' come sarà? Ma lunga, come hai detto tu lunga, sicuramente è la migliore come programmazione in quanto grazie alla vittoria della World Cup ci consente di non avere impegni intermedi. Sì, c'è il Grand Prix che però è un Grand Prix che si può affrontare grazie anche al fatto che nella World Cup sono state molte atlete giovani a essere nella lista, si può affrontare con una determinata programmazione. Per cui è una stagione importante, una stagione che l'idea è stata appunto quella di dividere i due gruppi con un gruppo che starà sempre in Italia, un gruppo che farà tutto il Grand Prix e un altro gruppo che in pratica si alternerà un pochino all'interno del Grand Prix e del lavoro in Italia. Però sicuramente il programma è quello di vedere cosa fare alle Olimpiadi, il Grand Prix ci interessa, è importante fare bene, è importante giocare partita dopo partita, però non sarà sicuramente la nostra stagione legata a quello che succederà al Grand Prix, assolutamente. Penso che quest'anno ce l'ha insegnato e il Grand Prix non è stato sicuramente un grandissimo risultato, però dopo abbiamo vinto la World Cup, per cui penso che bisogna sempre guardare all'obiettivo finale, poi se durante il percorso le cose vengono bene è importante anche questo. Però l'obiettivo finale è quello, cercare di salire su questo podio che la parola femminile non è mai neanche riuscita a sfiorarlo perché non è mai entrata neanche nelle prime quattro. Sì, infatti per questo tu avrai cambiato rispetto ad esempio al 2008, quindi con un gruppo rimarrai a casa per parlare all'Olimpiade, il Grand Prix sarà un po' di rodaggio per alcune senatrici e invece grande vetrina per le giovani. Sì, esatto, perché quest'anno con questi regolamenti che obbligano a partecipare con un tot di giocatrici, sempre un attimino così, costretto a fare programmazioni un pochino particolari, non ideali. Quest'anno invece col fatto che appunto la World Cup sono state molte atlete giovani, molte atlete alle prime esperienze che hanno fatto parte del gruppo World Cup, riusciremo tranquillamente a stare in questo numero, a rispettare quelle che sono le regole e quindi consentirsi di lavorare bene a casa e altrettanto bene anche con chi ha bisogno di lavorare magari a casa, lavorare a casa, chi ha bisogno invece di giocare, di continuare questa esperienza, lo potrà fare tutto il mese di giugno. Una domanda sui club, un mondo a cui tu sei molto legato, grandissimo spot per la Vallapolo femminile, la finale fra Villa Cortese e Busto Arsizio, premiato col primo scudetto di Busto. Eccezionale, è stata eccezionale perché non è stata solo la gara 5 ma è stata tutta la serie, tutta la serie è stata sempre seguita a me di 4-5 mila persone, 4 mila spettatori e questo è importante perché penso che in tutti gli sport, non solo nella pallavolo, si sta soffrendo molto questa mancanza di pubblico e la mancanza di pubblico dopo si riflette anche sulla mancanza di ragazze che poi iniziano a giocare a pallavolo, che si entusiasmano a questo sport. In questo penso che il nostro movimento abbia dato una grandissima prova, una prova di forza perché riuscire a riempire per 5 giornate consecutive dei palazzetti grandi come sono quelle di Monza e di Busto Arsizio penso che sia un bellissimo risultato e speriamo che sia un punto di partenza, che si uniscono altre società, altre piazze che possano fare altrettanto bene perché fino a dieci anni fa questo succedeva con una certa regolarità, adesso è un pochino più difficile però questo è sicuramente stato un passo importantissimo. Ultima cosa, questo soprattutto diventa un merito considerando che il mondo della pallavolo femminile si sta allargando a dismisura dalla Cina all'Azerbaijan per non parlare del Brasile, della Russia e della Turchia, tutte le nuove frontiere. Assolutamente, è sempre più difficile riuscire ad avere un campionato ad alto livello perché ci sono tante superpotenze dal punto di vista economico e adesso non solo dal punto di vista economico perché appunto anche il livello sta aumentando. Prima c'erano magari in tante nazioni dove c'era una squadra, due squadre che offrivano tanto dal punto di vista economico però andavi a giocare un campionato che si riduceva magari a due partite, tre partite in un anno. Invece adesso anche con la crescita del numero delle squadre di Champions League e con la crescita delle squadre anche forti in questi campionati sono campionati di altissimo livello per cui sono appetiti e appetibili per le giocatrici non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista professionale. E dunque per l'Italia diventa sempre più difficile per cui c'è da sperare che aumentino sempre di più queste società che riescono a fare così bene, che riescono a coinvolgere così bene il pubblico, tutto quello che c'è intorno indipendentemente magari da avere dei numeri uno che magari andranno sia italiani o straniere magari andranno in luoghi, come ho detto prima, più appetibili anche dal punto di vista economico. Quindi per cui questo è un risultato doppio come valore, penso, quello che si è visto in questo campionato di Lega.